In questo momento, luglio 2021, noi abbiamo numeri positivi superiori al luglio 2020 e poi sappiamo che cosa è capitato a ottobre. 24 i contagi nell'uslotto Berica solo nella giornata di martedì 20 luglio nel fine settimana. Se ne sono contati 46. L'età media è di 33 anni ma tende rapidamente ad abbassarsi e la variante delta è quella prevalente e si torna a ricoverare. Da ieri abbiamo un paziente in terapia intensiva, non vaccinato, sessantenne. Dunque oggi più che mai diventa fondamentale vaccinarsi, mentre un nuovo fenomeno avanza ai Novax e si aggiungono i negazionisti del tampone. Al momento l'uslotto diplomaticamente è riuscita ad ovviare con il tampone salivale, ma se il fenomeno dovesse aumentare? Qualora fossimo davanti a una patologia procrastinabile, quindi che può aspettare, credo che utilizzeremo questo tipo di percorso. E in tempo di vacanze il tampone torna prepotentemente alla ribalta per gli ingressi e rientri dall'estero con la nuova ordinanza del presidente Zaia, raccomandato quello molecolare o antigenico per i non vaccinati perché arriva da ben 14 paesi, dal Regno Unito alla Bulgaria passando per Grecia, Spagna, Slovenia per citarne alcuni. Tamponi eseguibili in aeroporto o nei punti tamponi territoriali entro le 24 ore. Tampone obbligatorio, anticipazione del test di screening per lavoratori e operatori della sanità, obbligo esteso a chi rientra da paesi extra Unione Europea. Sul tema Green Pass, infine, l'invito è di scaricarlo attraverso il portale del Governo, che è l'unico in grado di emetterlo.